Musica Musica Qui noi tradiziamo l'elastico e il movimento di generatore così come ce li ha trasmessi in questa città. Quindi non è una scuola di caligrafia. Drogodai si trasforma questa sera, in questa occasione, in uno sfatto espositivo. Anche Tsuda usava esporre le sue caligrafie nei dojo, dopo aver realizzate il che accadeva nel mese di maggio e soltanto nel mese di maggio. E quando gli veniva chiesto perché proprio nel mese di maggio, la sua risposta era perché è primavera. A Parigi dove il maestro si trovava non era facile assolutamente trovare il materiale necessario per poter produrre le caligrafie. E di qui la scelta di tracciare le caligrafie in un modo proprio insolito, perché con la cera sulla tela grezza. In ogni caso si tratta di segni che rappresentano e dicono cose e che quindi, come dice il registo Abbi, costituiscono una trama dell'insegnamento di Tsuda. La società funziona in virtù di principi che ci permettono di soddisfare i nostri bisogni. Condannare la società non è affare mio. Senza dubbio bisogna che la società evolva. Indico che non viviamo soltanto in funzione della società, ma che viviamo qualunque sia l'ambiente in cui ci si trovi. I grandi regni abitano nei quartieri popolati. Grazie. Grazie a tutti.